Il suo ultimo, nato in casa, Nero Rizzoli. Questo nero, dal titolo particolare, Mare di Pietra, un giallo, un giallo ambientato in una villa che diventa un dedano. Patrizia, a te. Sì, è un giallo. Innanzitutto grazie per l'ospitalità, è un posto bellissimo, e voi siete magnifiche tutte. Il nero diventa mare, diventa pietra, cioè noi sappiamo che il mare accoglie e offende. Quindi ho voluto molto raccontare l'incontro tra potere e malaffare, potere politico, malaffare eccetera, e collocarlo in uno dei posti più belli del mondo, che è appunto la costiera sorrentina. Lì succede di tutto, e le mie protagoniste seriali, che sono la signora e Andrea, il detective per caso, devono trovare il bandolo della matassa. Tra incertezze loro, quello che caratterizza un po' i miei personaggi, da Blanca ma anche altri, è l'imperfezione, l'imperfezione, l'acciacquolo, il lieve malessere o il grave malessere. e l'assenza quasi sempre di certezze. Piro, le loro solitudini si incontrano e nasce l'armonia. Hai introdotto la signora e Andrea, che sono due personaggi davvero molto particolari. Posso chiederti come li hai costruiti, oppure come sono arrivati, perché per chi ti segue sa che sono appunto personaggi che hanno tante sfumature, anche loro hanno il loro mero. Beh, la signora è arrivata prima da Andrea, è una donna in età non della Napoli bene, della Napoli benissimo, un po' sillipina, attico e superattico, marito superprimario di quelli conosciutissimi. C'è un certo punto il crollo nella sua quotidianità, in apparenza adorata, il marito viene arrestato e morirà in carcere. A quel punto lei, che mi piace particolarmente delle donne in età reattive, si libera e parte alla ricerca di una costruzione nuova di sé. Non è mai tardi per farlo. In realtà si voleva liberare anche della sua eccessiva generosità, una generosità quasi patologica, però quando vede una donna vestita da uomo, quindi le sembra un giovane, un giovane uomo, testato a Roma, a questo è autobiografico, lei si perde, mi ha accompagnato qui, sono stata accompagnata qui perché io mi perdo anche col navigatore, questo è un dato autobiografico, anche la signora si perde e in una delle sue scorribande in strade sbagliate, per strade sbagliate, assiste a questo testaggio, senza sapere perché, senza darsi delle spiegazioni razionali, carica su quest'uomo di indicibile bellezza, che l'ha colpita proprio perché resta bellissimo e aggraziato anche sotto i colpi, la bellezza che non si sciupa. Torniamo al romanzo di questa sera, Gata è una donna, una escort, voglio essere gentile, non voglio usare il termine più duro che tu nel libro usi, anzi lo fai usare alla stessa protagonista, attraverso di lei, questo possiamo dire, lei muore subito, partiamo dall'omicidio, come dicevi prima, si ripana tutta una storia che porta in superficie, sul mare, proprio tutto lo sporco e del mondo del malaffare, ma tutto si svolge all'interno di questa meravigliosa cornice, è voluta questa contrapposizione tra la bellezza del posto, del luogo, dell'ambientazione, del mare, invece l'orrore, il brutto che poi man mano viene fuori, o è una cosa che man mano che la storia si andava sviscerando, hai costruito, o ci hai pensato prima? No, non sono, non mi sembrano divisibili, non mi sembrano divisibili, lo sfregio della bellezza, è una specie di santificazione della bellezza, la crucifissione, visto che adesso ci troviamo in un ambiente sacro, a prescindere dal senso religioso, il simbolo, il simbolo è quello, il resta, e noi lo sentiamo profondamente, non so, la nostra parte spagnola, la nostra parte intemperante, che ogni giorno assiste a questa contaminazione, noi non siamo liberi da questa contaminazione, che inevitabilmente cade anche nell'animo umano, nessuno intende dal peccato. Concordo. I personaggi sono tanti, e si percepisce chiaramente questa tua attenzione, non solo in questo romanzo, ma anche negli altri, per l'animo umano, quindi tutte le sfumature dell'animo umano, che sicuramente in una razione come questa, è, tra virgolette, facilitata, cioè c'è molto materiale. Da cosa nasce questa tua attenzione per l'animo umano, attraverso poi l'utilizzo della scrittura, per far venire fuori quelle che sono le nostre sfumature, i nostri vizi? Beh, la risposta è molto semplice, sono ancora innamoratissima del paesaggio umano, sono quella che ascolta, che orlia, che osserva, che ricorda, mi piace parlare con gli sconosciuti, mi piace capire, immaginare la vita degli altri. L'ho sempre fatto, anche quando non pubblicavo così tanto, è un vizio che però mi aiuta, perché se noi ci pensiamo un pochettino, ora dico una cosa che può sembrare banale, ma non lo è, se noi ci imponiamo come esercizio, la prospettiva degli altri, possiamo vivere innanzitutto più vite, ma poi possiamo anche essere più urgenti. È vero. Il giallo. Il giallo è amato da moltissimi, soprattutto nell'ultimo periodo, io l'ho sempre amato, e il giallo sta prendendo anche forme, declinazioni diverse. Quanto il giallo, secondo te, io non sono perfettamente concorde con questa affermazione che ho sentito e ripeto, descrive un po' quella che è la società. Oppure il giallo è piacevole proprio perché è un giallo, c'è la strutturazione e destrutturazione di qualche cosa, e poi c'è un occhio particolare su quelle che sono invece le caratteristiche delle persone. O semplicemente è un genere nel quale ti sei trovata e ti piace e lo pratichi con facilità? Io credo che qualsiasi genere possa avere anche varie declinazioni. ci sono maestri che utilizzano proprio il genere noir, il giallo e il noir per decodificare i costumi. Ci sono altri che cercano di strappare addirittura un sorriso. c'è chi addirittura si infrattiene in temi amorosi con l'occasione del giallo. Io non sono così in scatole, cioè non mi piacciono troppo, diciamo la napoletana, assai assai non mi piacciono le scatolette. Quindi io spero di essere, di avere piedi più scatole. Una contaminazione per così dire? Una contaminazione, un'avventura che non si prefince di essere troppo determinata. Per esempio il linguaggio, si dice che il linguaggio deve essere abbastanza secco, abbastanza semplice, ma no, insomma... Dipende. Dipende. Ultimissima domanda e poi iniziamo. Gada, come hai costruito questo personaggio? Oppure a chi ti sei ispirato? Due a tante. Grazie. Grazie.